Ti dico una cosa, qui como.it, un giornale bellissimo, ciao, viva il Zio Greggio, vieni di qua, box office 3D E Zio Greggio a Como per promuovere il suo ultimo film, innanzitutto come trova Como? La conosceva? Como è una città meravigliosa, la conosco da tanti anni, ho tanti amici qui a Como e provincia È una città indimenticabile, con un fascino molto particolare e in questi giorni è ancora più affascinante perché è uscito il mio film qui alla UCI Ecco, a proposito del suo ultimo film, in 10 secondi come convincerebbe la gente a venire a vedere il suo ultimo film? È il film più divertente del momento in assoluto, un film per famiglie, si ride dall'inizio alla fine e poi guardate che faccia Gigi Proietti, Enzio Greggio, Antonello Fassari, Enzo Salvi, Biagio Izzo che fa Zorro, insomma, Maurizio Mattioli, c'è anche Militello, c'è Lafalti, c'è Giorgia Wurt Insomma, un film da non perdere, box office 3D, il primo 3D italiano, vi aspetto al cinema